In compagnia del Rettore Arele Tommasetti, stamattina siamo qui presso il Grand Hotel Salerno in occasione del Memorial in onore dell'indocrinologo Franco Iorio e soprattutto in occasione della consegna di alcune borse di studio agli studenti più meritevoli del corso di laurea in medicina. Quali sono le considerazioni, Rettore, in merito alla giornata di oggi? La prima è la soddisfazione che si può avere per premiare i nostri giovani. Tre laureati che hanno avuto la media del 29,6 durante il proprio percorso di studi in medicina. La seconda è che il dono del ricordo, noi oggi diciamo l'occasione anche per ricordare una persona, un operatore quale Franco Iorio, un medico che comunque ha segnato la medicina qui a Salerno e che sicuramente dall'alto benedirà questo tipo di iniziativa e il fatto che comunque si continui a guardare costantemente ai giovani. Credo che occasioni come queste servano appunto per rinsaldare anche il rapporto tra l'università, il territorio, l'ospedale e capire che tutti dobbiamo rimanere nella stessa direzione. Noi come università abbiamo fatto la nostra parte con tanti successi che abbiamo avuto in questi anni come facoltà di medicina, impreziositi quest'anno dall'arricchimento anche con la facoltà di odontoiatria. E' chiaro che però ci manca ancora il pezzo della stabilizzazione del rapporto con gli ospedalieri e con la nostra azienda ospedaliera universitaria, quindi occasioni come queste servono per parlare di questi argomenti guardando ai nostri giovani che rappresentano il nostro straordinario patrimonio, della nostra università e della nostra regione.